A scrivere di Kvara e il Napoli Il club partenopeo vuole blindare il suo attaccante e regalare ad Antonio Conte Una pedina fondamentale per il presente e per il futuro Nei giorni scorsi, Manna ha dichiarato il merito all'attaccante azzurro, l'ha ancora tre anni di contratto Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui e a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme Stiamo lavorando con l'entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa